SITE V 2023, in questa fiera specializzata nel settore del vigneto e dell'ortofrutta, Caffini espone della sua vasta gamma i nebulizzatori e gli atomizzatori più performanti per qualità di distribuzione e controllo della deriva. Vediamolo insieme. Della serie Rafalla, le versioni articolate Arti4, per trattare due file a passaggio, e Arti6 Proxy, per trattare tre filari a passaggio. Si distinguono per agilità nelle manovre, precisione di distribuzione grazie alla tecnica del getto mirato e robustezza della struttura. Trend Plus Reverse, un atomizzatore speciale. Specializzato per trattamenti a piante, con grande volume di vegetazione e grandi altezze, come docciole, noci e avocado. Smart Synthesis Hybrid, che grazie a sensori speciali, a un motore elettrico al ventilatore, e a ugelli PWM, regola in tempo reale il volume d'aria prodotto dal ventilatore e la quantità di miscela erogata in funzione della massa fogliare e della sua porosità. Tutto questo per ridurre il consumo energetico e ridurre la quantità di miscela distribuita e erogando solo la quantità richiesta in tempo reale appunto dalla vegetazione rilevata. Driftstopper Evo non solo recupera, ma distribuisce la miscela fitoiatrica in maniera uniforme su tutta la massa fogliare fino al grappolo e in tutte le epoche fenologiche della vita. Grazie alla doppia articolazione del telaio, a gestione elettronica, si manovra in maniera agile e sicura, in uscita e l'entrata nei filari. Grass Killer, nella versione Twin, per il controllo delle malerme del sottokiova. Spray bag, per i trattamenti in serra, con gli ogelli a 25 cm di spaziatura, la tecnica della manica d'aria e l'Electrostatic System Caffini consente di ridurre drasticamente la quantità di miscela fitoiatrica distribuita e di arrivare in maniera omogenea sulla vegetazione senza avere dilavamenti. Ringrazio i numerosi visitatori professionali curiosi di conoscere le soluzioni Caffini di questa edizione 2023 e vi do un arrivederci al prossimo evento che sarà a Fiera Agricola il prossimo gennaio 2024. A presto!